La vetrina delle idee, la tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori radiofonici, la tua azienda in primo piano, in esclusiva su Punto Radio. Buongiorno, buongiorno amici, anche oggi siamo in collegamento con voi, oggi abbiamo un ospite che avete già avuto modo di conoscere che è Stefano Spitali, l'amministratore delegato dell'Accese Ragazzi Laboratories. Buongiorno Stefano. Buongiorno Moreno, buongiorno a tutti. Inizieremo con la CR Lab, una serie di trasmissioni e ogni trasmissione, insomma, gli diamo un titolo, oggi è non dare un volto al tumore. Dico bene Stefano? Sì, è una campagna molto importante a cui ci teniamo in modo particolare perché ci sono delle nostre clienti a chiederselo di darci da fare per far conoscere questa soluzione per chi sta attraversando questo momento veramente difficile della propria vita. Bene, ora ti faccio la prima domanda. Perdere i capelli può rappresentare un evento traumatico, soprattutto quando la caduta viene provocata da terapie mediche salva vita, come la chemioterapia. La vostra azienda è stata coinvolta da uno studio di ricerca condotto presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Cosa è emerso? Guarda Moreno, allora la prima cosa dobbiamo dire che il 47% delle donne considera a distanza di mesi da un percorso chemioterapico la perdita dei capelli come l'aspetto più importante e più traumatizzante della loro esperienza. Quindi partendo da questo volevamo avere la certezza di quello che alcune delle nostre clienti ci avevano detto, e cioè che con il nostro sistema di infoltimento loro potevano avere una normale vita e quindi non vedersi ammalate e non sentirsi ammalate. Visto che questo è un tema estremamente delicato, con l'Istituto Nazionale dei Tumori è stato fatto questo progetto di ricerca Seno Salute Donna Onlus e le psiconcologhe hanno misurato con delle scale di psicologia qual è la qualità della vita di queste persone che erano la seconda esperienza di chemio. E nella prima avevano utilizzato una normale parrucca come tante ce ne sono sul mercato disponibili, mentre invece nel secondo caso hanno utilizzato il nostro sistema di infoltimento. E i risultati dicono che ci sono dieci punti di distacco nella qualità della vita e nel benessere psicologico secondo questa scala. E questo per noi è stato un elemento di grande soddisfazione ed è il motivo per cui noi oggi vogliamo portare con un senso di tutti questa ricerca importantissima che è stata fatta all'Istituto Nazionale dei Tumori, perché pensiamo di poter aiutare tante persone che si trovano in difficoltà. Bene, questa è una cosa che vi fa anche onore secondo me. Senti, che dobbiamo far capire, no? Perché la gente non capisce se è una parrucca o non è una parrucca, la differenza con la parrucca. Qual è la caratteristica del sistema di infoltimento CR Lab? Ha fatto la differenza? Certo, allora le differenze sono tante e soprattutto come sono emersi da questo studio riguardano la funzionalità. Cioè con il sistema di infoltimento della Cesare Ragazzi Laboratories conduci una vita del tutto uguale a quella precedente, perché questa ricostruzione fedele su misura del cuoio capelluto ti permette di avere una naturalezza che non è solo nel momento del styling, dell'estetica, ma lo è anche nel momento della funzionalità. Quindi ci dormi, puoi farti la doccia e compatibilmente con quello che ti permette il tuo stato di salute puoi fare qualsiasi tipo di attività. Quindi la mano fra i capelli del nipote o della figlia non è un problema, come non è un problema poter uscire e rapportarsi con le persone nelle azioni quotidiane che siamo tenuti a compiere. Quindi questa normalità è quello che è stato sottolineato da queste donne. Le differenze, come ti dicevo, sono nel fatto che è estremamente su misura nella qualità dei capelli e il fatto che la nostra base è un materiale polimerico e questo sistema di infortimento è un risultivo medico. Al proposito, saluto anche Stefano, abbiamo un contributo video da far vedere ai nostri telespettatori. Facciamolo vedere, dopo faccio un'altra domanda a Stefano. Per il 47% delle donne che affrontano la chemioterapia, perdere i capelli è l'aspetto più traumatico. Ma c'è un rimedio per mantenere la propria immagine durante tutta la terapia. il sistema di infortimento con capelli naturali di Cesare Ragazzi Laboratories. Non dare un volto al tumore. Contatta il nostro centro più vicino per una consulenza gratuita e allo specchio vedrai sempre te stessa. Cesare Ragazzi Laboratories. Vai su cesareiragazzi.com o chiamalo 800 150 150. Comunque si capisce esattamente il messaggio che vuole lanciare. Possiamo dire che comunque sono come avere capelli, i tuoi capelli in te? Sono capelli veri, dico bene? Capelli veri, mai trattati, dove poi la persona se vuole può fare dello styling, può darla alla propria parrucchiera anche per non perdere quegli abitudini e quella socialità che è comunque importante mantenere a seconda di quello che ognuno di queste persone che si trovano ad affrontare questo percorso della vita desiderano fare. E loro, io lo so perché l'ho visto, sono talmente bravi che riescono a fare lo stesso colore ma esatto ai tuoi capelli. Sì, lì cerchiamo dei capelli che per tipologia, per spessore, per ondulazione e per colore ovviamente siano perfettamente identici a quelli della persona. Ti voglio fare un'altra domanda, sì ce la facciamo. Il percorso, scusate, chemoterapico purtroppo entra nella vita di moltissime persone. Chi si trova ad affrontare questa battaglia e vuole avere un supporto da questo dispositivo, cosa deve fare? Come avvicinarsi al sistema infoltimento CR Lab per alopecia indotto da chemioterapia? Guarda, noi abbiamo dedicato una sezione all'interno del nostro sito internet dove c'è un accesso diretto dove si vedono anche quali sono i nostri centri in Italia più vicini dove si trova la persona. Quindi l'invito è quello di andare sul nostro sito che è www.cesareiragazzi.it oppure il numero verde 800 150 150 e anche lì si viene indirizzato e si ricevono le prime informazioni. Vengono date tutte le informazioni relativamente alla necessità di incontrare questa persona perché come dicevo prima questo dispositivo è su misura, quindi calza perfettamente con quello che è la propria conformazione cranica ed è questo uno dei motivi per cui permette di dare questa grande normalità e questa grande funzionalità. E all'interno dei nostri centri ci sono delle persone che sono state preparate per dare tutte le informazioni necessarie rispetto a quel processo. Tenete presente che circa in 30-40 giorni la persona riceve questo dispositivo che poi l'accompagna nel suo percorso chemioterapico. Bene, direi che si è rimasto proprio un minutino, te lo lascerei per ridare un po' il numero di telefono, il sito, chi possono contattare per avere informazioni. Quindi il numero verde dicevano 800 150 150 e sul sito internet www.cesareiragazzi.it Bene, io ti ringrazio, sono argomenti molto interessanti, invito tutti gli ascoltatori della vetrina dell'idea a seguirci perché da oggi inizieremo una serie di trasmissioni dedicata a questo problema. Ti ringrazio e saluto tutti e alla prossima. Ciao Stefano. Grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.